È stato siglato l'8 febbraio il protocollo d'intesa tra la ASL Roma H e i comuni di Marino e Ciampino per il funzionamento del punto unico di accesso del distretto H3 di Marino e Ciampino che consentirà la creazione di una sorta di cartella clinica online per i soggetti che vivono in particolari condizioni di fragilità o che appartengono alle fasce deboli. Tali soggetti attraverso il PUA potranno avere i servizi sotto casa e accedere facilmente alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali non comprese nell'emergenza. Ogni PUA ha una funzione prevalente di orientamento e accompagnamento per il cittadino cui permette di trovare il servizio giusto in grado di rispondere al proprio bisogno di assistenza. In pratica, una volta che il cittadino avrà compilato un modulo, esso verrà messo online e i vari operatori delle organizzazioni sociali e sanitarie, quindi sia operatori comunali, operatori della ASL e delle altre associazioni coinvolte, saranno chiamati a interagire fra loro per migliorare la qualità dell'assistenza. Soddisfatti per questo risultato il direttore generale dell'ASROMACA, Alessandro Cipolla, il sindaco di Ciampino, Walter Perandini e il vice governatore del Lazio, Esterino Montino, che non è voluto mancare a questo importante appuntamento. Oggi l'ASROMACA inaugura il suo secondo punto unico di accesso, il PUA. Qual è l'importanza? L'importanza è fondamentale perché cominciamo finalmente, come vedete sono contento perché si parla del territorio, e cominciamo a entrare nel territorio, cioè cominciamo a fare le porte di accesso per i cittadini, cominciamo a fare in modo che ci sia l'integrazione sociosanitaria, cominciamo a fare in modo che i cittadini abbiano una risposta non solo di degenza in ospedale, ma abbiamo una risposta sul territorio, su quello che sono i bisogni in generale. Noi abbiamo messo a punto un programma informatico che consente di switchare se sociale o sanitario e quindi l'integrazione con il comune è perfetta. Dunque in sostanza questo PUA che cos'è? Se dovessimo spiegarlo a un bambino di 6 anni. Il PUA è dove il cittadino va per chiedere aiuto, il cittadino fragile va per chiedere aiuto e in questo punto l'azienda insieme al comune trova il sistema per dare le risposte di aiuto. Ecco perché l'importanza della collaborazione tra l'ASL e i comuni? E' certo, questo è fondamentale. La cosa importante di questo programma è che il punto unico di successo è figurativo, cioè il punto unico può essere sia al comune, sia al distretto, sia negli ambulatori, perché essendo un programma informatico che ha un unico dono a base riesce poi a dare le risposte e comunque sia univoche per tutti e due i bisogni, sociale e sanitaria. Dunque i cittadini che vi vorranno accedere potranno recarsi sia al comune di residenza oppure all'ASL? Dove, esatto, dove sarà inserito questo? Noi adesso stiamo cominciando, la promessa l'abbiamo già messo su in piedi, l'abbiamo messo su al comune, lo stiamo traslando anche al distretto e quindi lì già c'è distretto e comune. Dove più possiamo metterlo è meglio è, cioè più vicini siamo ai cittadini è meglio è. Walter Perandiri, sindaco di Ciampino, oggi un'importante iniziativa, finalmente un protocollo d'intesa tra l'ASL e i comuni di Ciampino e Marino per la costituzione del PUA, il punto unico di accesso. Questo è un protocollo d'intesa che in qualche modo è diverso dai tanti che si firmano, perché per la verità i protocolli d'intesa spesso e volentieri sono dei documenti che poi spesso ai quali non si dà seguito. Questo protocollo d'intesa è un protocollo d'intesa importante perché si pone un obiettivo importante, che è quello di mettere insieme le risorse altrimenti scarsamente disponibili e di fare in maniera che chi ha bisogno di aiuto o dal punto di vista sanitario o dal punto di vista dei servizi socioassistenziali possa essere sostenuto senza duplicazione di risorse, senza che ci sia due volte il stesso tipo di personale che gli faccia le stesse domande, che gli chieda di che cosa bisogna e poi magari non dare nessuna risposta, ma cercando di dare delle risposte in maniera il più possibile efficace. Questo è un po' lo spirito di questa iniziativa, il fatto che ci sia stato Montino come Presidente della Regione a voler essere presente a questo protocollo dimostra l'attenzione della Regione su questa cosa, sul fatto che questo distretto arriva fra i primi, non soltanto di questo ASDA, ma del territorio regionale, alla partenza di questo punto e che si tratta di una cosa che potrà avere un seguito importante per i nostri concittadini. Qual è l'utilità di questo PUA? L'utilità è molto semplice, noi nel piano di rientro abbiamo, nel 2007 abbiamo fatto una scelta che su ogni distretto ci deve essere un PUA. Il PUA sono punti unici d'accesso, significa insieme all'amministrazione comunale un'occasione per valutare insieme, con una sinergia anche istituzionale, tecnico-istituzionale, per valutare se quel determinato cittadino, quel determinato paziente ha necessità di un trattamento sanitario, che tipo di trattamento sanitario, oppure invece soltanto la necessità di un percorso di sostegno assistenziale. Noi abbiamo alcune anomalie su questo.